Ciao, creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaI, A-S-M-A. Disclaimer subito, questo argomento non è per tutti, se sei una persona a cui piace il true crime, argomenti del genere che la fanno rilassare, ok, resta qui. Se sei una persona sensibile a questi argomenti, esci da questo video, guarda un altro perché potrebbe crearti una sorta di giaggio e ansia e malumore e quindi non guardarlo. Creatura, guarda un altro video rilassante, un altro chitchat, un altro video, non restare qui, ok, perché appunto se sei sensibile non restare qui, non guardare, se anche sei curioso e sensibile non guardare il video, ok. Prima che qualcuno scriva, ma questo non è un argomento ASMR, lo so, lo so, è chi amante di questi argomenti o che semplicemente vorrebbe avere informazioni al riguardo. E ci tenevo a fare un video dove racconto queste cose che ho scoperto in chiave ASMR perché magari non tutti piacciono i video dove si parla a voce alta, normale, però vogliono comunque saperne di più su questa faccenda. Queste informazioni le ho scoperte sul sito TikTok e l'argomento mi sta molto a cuore per le mie cose personali, ma anche perché, che fa parte comunque delle cose personali, per un periodo ho avuto un gruppo di persone, stavo in un gruppo di persone dove smascheravamo queste persone, questi pet, ok, chiameremo pet perché su YouTube non si possono dire certe parole. Andavano nelle chat a caloppiare i minorenni e li smascheravamo, gli facevamo passare cinque, anche di più, minuti di terrore e se avete visto il video dove rispondo alle domande che dicevo che ero cattiva, intendevo queste cose. Comunque, per quello metto le virgolette perché dipende dai punti di vista, uno può pensare che una persona che fa così è cattiva, un'altra può pensare che sta facendo ingiustizia, insomma, dipende sempre dai punti di vista. Se hai visto la serie Cooper H.I.E. saprai che ci sono dei punti di vista, ok? Io l'adoro quella serie, comunque, off topic. E' uscito questo documentario che si chiama Quiet Onset, è un documentario su Nickelodeon che è un marchio di intrattenimento, cioè trasmettevano cartoni e serie per ragazzi, ragazzi e bambini, quindi il target è quello, quindi il target è quello. Questo documentario tratta il lato oscuro di questi programmi per bambini e come personaggio principale di tutta sta vicenda c'è Dan Schneider, che è Dan Schneider, è un attore, è uno cineggiatore, è un produttore televisivo che appunto ha ideato praticamente tutti i programmi che sono usciti circa negli anni 2000. Lui è diventato molto famoso per programmi, adesso io non so, io li guardavo tutti quelli, Sam & Cat, Josh & Drake e... Victorius, i Carly, i 101, io quelli li ho guardati tutti e mi piacevano tanto e guardandoli con gli occhi di una ragazza non avevo notato certe cose. E proprio perché li guardavo con un cervello ingenuo di una persona piccola, ecco, di una ragazza, ecco. In questo documentario si racconta che questi ragazzini venivano buttati nel mondo televisivo in Nickelodeon per appunto dai genitori che erano dei non persone così furbe, diciamo, ecco, non molto svegli e loro vedevano solo i soldi, vedevano solo il guadagno dietro questi ragazzini e quindi venivano proprio buttati per... usati per fare soldi, ecco. Una volta che questi ragazzini entravano a Nickelodeon dovevano ingraziarsi, diciamo, Daniel Snyder perché dopo lui, facendo amicizia, diciamo, con lui, questi ragazzini venivano poi presi per fare delle serie che poi dopo sono state serie anche che hanno tipo i Carly, lei è diventata un botto famosa, la protagonista e poi ha iniziato anche a fare film, eccetera, eccetera, come anche altri attori e di... bambini attori di queste serie. Diciamo che si può paragonare questo scenario di bambini al mondo di Hollywood, dove però ad Hollywood sono adulti che interagiscono con altri adulti, quindi se fanno gli amici o fanno, insomma, i carini con i produttori sono comunque adulti con altri adulti. Invece in questo caso si tratta di adulti che interagiscono con ragazzini, quindi non è proprio la stessa cosa, ecco, che tra adulti e adulti non è un'interazione allo stesso livello, perché ovviamente il ragazzino è genuo, non conosce ancora i pericoli, eccetera, eccetera, e poi come nella vita di tutti i giorni puoi incontrare persone buone di cui ti puoi fidare e poi anche persone che ci vingono due amiche e poi in realtà non sono delle belle persone, ecco, come per tutti. Quando questi ragazzini riuscivano a entrare nelle grazie di Dan, si assicuravano una serie di successo. Dan in quel periodo inizia a produrre programmi che fanno un sacco di successo, perché quel format che lui prende, un format che esisteva già, però che facevano gli adulti, ovvero degli sketch, come se fosse tipo una serie tv, però fatta interamente da ragazzini dove fanno degli sketch divertenti. Questi sono format che piacciono tantissimo, super divertenti e inizia a fare concorrenza alla Disney. Dan capisce il potenziale di questi format, perché non ce ne sono altri fatti come quelli, e quindi inizia a farci un bel po' di soldi e inizia a acquisire sempre più potere. E questa cosa si ripercuote ovviamente su questi ragazzini, perché iniziano a fargli fare di tutto di più. Per esempio su Sam & Cat e su Victorius, io mi ricordo che c'erano un sacco di scene dove mostravano i piedi, ci sono delle scene che infatti a lì per lì non pensavo fossero scenette divertenti, invece, riguardandolo adesso con gli occhi di una persona adulta, mi accorgo che sono tante, tante le scene dove si vedono questi primi piani di piedi, dove coi piedi ci fanno delle cose, mettono in bocca i piedi, insomma, sono scene che se viste da un ragazzino sono delle cavolate, delle scene così, ma se sono scene viste da adulti che hanno una certa passione, diciamo, si hanno capiti? Quindi lui ha iniziato a fare questo sì per un target di pubblico di bambini, ma anche per un target di pubblico adulto con una certa passione, ok? E' tutto alla luce del sole, perché veniva approvato per la Nickelodeon come un... Non lo so se... Non so se Nickelodeon era a conoscenza di questa cosa, adesso magari se tu hai alcune informazioni puoi scrivermelo nei commenti, perché magari qualcosa mi è sfuggito, sono tutte le cose che ho visto tramite TikTok, queste informazioni, poi ho raccolto tutto, ci ho fatto un po' un racconto della situazione per te. Non mi sono fatta una scaletta, quindi sto andando un po' a memoria. Ho visto, anche in questo periodo, facevano vedere un'attrice che è Amanda Pines, mi pare che si pronunci comunque, e facevano vedere come era prima, che era una ragazzina bellissima e adesso che è... cioè, irriconoscibile, una donna irriconoscibile, e dicevano, ma cosa sarà mai successo a questa ragazza per farla trasformare in questo adulto, questa donna, e anche io mi ha incuriosito questa cosa, anche io dicevo, ma cosa è successo? Cosa c'è dietro? Facciamo un po' di trigger anche. Questa Amanda era una dei personaggi, dei protagonisti dei ragazzini, i protagonisti di Nickelodeon aveva questa serie che si chiama Amanda Show, dove c'erano anche degli sketch, delle scenette divertenti. li fate sempre tra bambini, e voi dite, ma in tutto ciò, dove sono i genitori? I genitori c'erano, più erano presenti nelle vite di questi ragazzini, più li stavano dietro e più questa cosa dava fastidio, perché impediva a Dan e ai suoi collaboratori, perché poi si scopre che anche alcuni suoi collaboratori erano delle brutte persone, delle merdacce, ok? Te lo dico in inaudible, però hai capito. e facevano, si ingraziavano i genitori, vincendosi delle belle persone, come di solito succede nella vita reale, quelli che poi te lo mettono in quel posto, sono quelli che sembrano i più carini, coccolosi, e poi zack, eccola lì. E infatti non fidatevi di chi sembra troppo buono, ok? Nella vita. A questo punto è meglio passare da cattivi, ma essere in realtà buoni, e piuttosto che sembrare buoni, puoi essere delle serbi, maledette, delle macce. E' bello che sto cercando di dare informazioni, però senza dire parolacce, perché se devo censurare tutto non si capisce niente. Cosa fanno a questa Amanda? Iniziano a fare un po' il lavaggio del cervello, Dan inizia a farle un po' di lavaggio del cervello, perché la vuole tirare sempre più verso sé, e allontanarla dai genitori. e va, riesce, insomma, avendola sempre lì, cosa facevano loro? Facevano lavorare questi ragazzini per un sacco di ore al giorno, dicendo ai genitori che se volevano questi, cioè i soldi, dovevano lavorare tante ore, che lo show business è questo, eccetera, eccetera, e insomma li riempivano di cavolate e di questi, perché purtroppo il mio denaro fa fare delle cose schifose, per chi non ha una morale, ecco, o per chi è disperato. Con della manipolazione riesce ad allontanare Amanda dai suoi genitori e a emanciparla, e tant'è che per un periodo Amanda va a vivere con questo den, quindi questa ragazzina va a vivere con questo uomo che vinceva di fare da padre, però in realtà aveva dei doppi fini. Adesso io su su TikTok si vocifera il fatto che addirittura lui l'avesse messa in cinta e l'avesse fatta abortire, insomma queste informazioni non so quanto siano vere perché le ho sentite solo in alcuni profili e in altri dove raccontano queste vicende non ne hanno proprio parlato, quindi non so quanto sia vero. Se tu sai qualcosa a riguardo scrivimelo nei commenti. Facevano vedere che facevano anche dei festini un po' così dove facevano fare cose a questi ragazzini che non era proprio consono e cioè è normale che degli adulti facciano questi festini con questi ragazzetti cose che magari uno potrebbe pensare dal punto suo di vista cose innocue e per altri invece persone un po' più sensibili potrebbero dire non va bene. Quindi si pensa che questo Dan sia un pet ok? sia un pet e anche i suoi collaboratori perché per esempio uno di questi era molto amato da tutti un uomo molto sorridente un uomo si dice ragazzo della porta accanto il classico quello che nessuno mai sospetterebbe di questa persona mi ricorda un po' il film Donnie Targo e questo uomo vinceva di star vicino a questi ragazzini aiutarli qua e là e alla fine insomma questo qui che sembrava una persona tanto per bene un giorno si avvicina molto una di quelle ragazzine che poi non è diventata famosa perché fortunatamente la madre se ne accorta si accorta di situazioni non tanto piacevoli e l'ha salvata in tempo diciamo ecco si spera che sia così il trauma sicuramente un trauma se l'ha beccato pure lei però non come quelli che si sono che si è beccato per esempio se hai mai visto Drake Josh Drake allora questa ragazzina aveva una corrispondenza via mail con questo uomo che lei era entrata a Nickelodeon per provare a sfondare a diventare famosa con una qualche serie lì insomma e c'era questo che fingeva di aiutarla per per entrare ecco a far parte di questo mondo televisivo bambini bambini e quindi la madre dice in questo documentario che lei non non aveva visto niente di male se arrivavano queste mail se c'era questa corrispondenza tra i due lei aveva tipo 9-10 anni il bambino perché appunto pensava che fossero tutti i mail solo sul lavoro che puoi parlare di bambini di 9 anni e lavoro mi viene male vabbè perché a quelle età lì venirebbe solo pensare a andare a scuola vabbè non tutti sono fortunati adesso avere una infanzia felice spensierata però addirittura pensare al lavoro e sfruttare i figli per soldi mi viene proprio male mi viene proprio rabbia io tutta questa situazione mi ha generato una forte rabbia e dispiacere appunto perché mi dispiace per quello che è successo perché perché di sì e non voglio parlare di cose mie private che già ho raccontato qualcosa è stato usato contro di me quindi basta ho chiuso e ho un ufetto che ho raccontato anche delle robe abbastanza leggere figurati se poi raccontano cose più pesanti e insomma una sera la madre vede che la bambina è un po' strana chiude il computer e scappa dalla madre cosa è successo cosa è successo a vedere l'email e questo uomo gli aveva mandato dei dei file diciamo un video o delle foto adesso non mi ricordo comunque lui che toccava se stesso si può dire ok e quindi vedere che un uomo adulto manda questo tipo di contenuti a una bambina di 9-10 anni giustamente la madre se ne è fregata dei soldi e ha preso la fila e l'ha allontanata da questo mondo per fortuna poi tempo dopo la polizia contatta questa donna dicendo che voleva avere informazioni su quello che era successo perché lui era incriminato per essere un pet ok e si vede che altre persone lo hanno scamato e poi quando hanno fatto un controllo a casa sua hanno trovato un borsone pieno di foto di bambini ragazzini ragazzine e con tanto di nomi foto non foto normali ecco e un sacco di contenuti di quel genere ok di video di robe che probabilmente vendeva non lo so usava per se stesso e vendeva ecco per quello dico se visto Tony Darko mi ricorda un po' quello ok e tutti infatti sono rimasti così scioccati perché questo sembrava la persona più buona del mondo no e hanno parlato appunto di questo Drake Drake e Josh io ho visto poco quella serie lì perché non è che mi facesse tanto ridere e da dire la verità che Drake come personaggio mi stava un po' antipatico perché faceva quello il figono della situazione e Josh era il ragazzetto un po' più sfigatello cicciotto che appunto veniva un po' pulizzato ecco diciamo quindi un po' non mi piaceva tantissimo poi quando è uscito mi sa che io ero già anche più grandicella per vedere quelle serie lì magari preferivo cose tipo Buffy cose del genere ecco e e praticamente questo ragazzo anche lui con uno dei collaboratori è avuto cioè è stato manipolato è stato manipolato lui è entrato quando aveva quando era molto giovane vabbè lui aveva iniziato già da piccolo a cinque anni entrare nel mondo della tv che gli piaceva fare sketch così era un bambino simpatico e è stato buttato dentro a Amanda Shaw e e praticamente da lì lui aveva un papà molto presente che gli faceva da manager e aveva capito che tante cose non non andavano bene quindi gli stava molto dietro e dava fastidio al papà il padre di questo Drake perché andava a intralciare tutti i piani malefici che avevano in riservo per questi ragazzini e soprattutto per Drake e e quindi cosa fanno? fanno lavaggio del cervello a a questo Drake e fanno lavaggio del cervello anche alla madre di Drake perché i genitori erano divorziati non c'era un buon rapporto tra loro due e fanno insinuano insinuano nelle menti di Drake della ex moglie della madre di Drake che questo che il padre di Drake fosse lì solo per approfittarsi dei soldi di questo ragazzo e quindi non fosse un buon non fosse un buon manager per il video e quindi fanno fanno in modo che questo padre si levi dalle scatole la madre gli dice no da oggi in poi tu non sarai più il suo agente e il suo manager e lui a malincuore si è fatto da parte anche se continuava insomma ad avere questo sesto senso si può dire sulla faccenda che gli puzzava insomma il fatto che succedevano cose che non andavano che non non andavano bene dei comportamenti soprattutto di questo collaboratore che era sempre lì che trovava ogni scusa per toccare questo fake abbracciarlo eccetera eccetera lui aveva visto lungo insomma lui aveva capito e infatti c'è una scena super toccante su questo documentario dove c'è questo uomo che piange perché appunto non ha potuto fare diciamo che lui la vive come un fallimento personale perché non ha non ha insistito ha lasciato che Drake facesse il suo percorso senza fargli più da manager e lì dopo nessun successito di colori quindi lui si sente in colpa alla fine perché dice di non aver fatto abbastanza e probabilmente se lui non si tirava indietro la carriera di Drake magari non diventava mega famoso però magari dopo non gli succedevano tutte le robe che sono successe anche lui ha proprio testimoniato in questo documentario poi lui aveva fatto anche delle denunce anonime perché se le facevi con cioè se ci mettevi la faccia rischiavi appunto perché questa nicchia e l'odio erano molto potenti ecco e e niente cosa ha fatto fuori diciamo levato dalle balle dalle bolsa il padre iniziano appunto a fare il lavaggio del cervello al figlio e la madre è rincoglionita scusa però si è fatta manipolare anche per questi sicuramente anche per ripicca verso il marito sicuramente chissà su quale cosa psicologica loro hanno giocato perché sono persone subdole che non guardano in faccia nessuno sono anche bravi diciamo a manipolare le persone specialmente sono persone ingenue buone e e quindi niente figuriamoci un ragazzino e questo questo collaboratore di Dan aveva anche lui una bella casa faceva le feste e tra gli oggetti di scena che aveva nella sua casa aveva questa cosa mi ha mi ha lasciato proprio senza parole e cioè sembra proprio quella frase che gira ogni tanto quella scena diciamo quella frase che gira come audio su TikTok che dice il mondo è un posto orribile sembra che a tutti stia bene così perché questa cosa cioè vabbè non era forse un campanello d'allarme visto che lui si vantava di questa cosa allora questo tizio in casa aveva un quadro con un clown inquietante qualcuno gli ha chiesto che cosa fosse forse proprio Drake Drake forse gli aveva chiesto ma lui si vantava non solo con Drake anche con altre persone di questo quadro in pratica in pratica questo quadro gliel'aveva fatto avete presente il clown quello Dogo era quello il clown killer quello che faceva cose brutte ad adolescenti ragazzini e poi dopo li ammazzava e li nascondeva in casa ecco gliel'aveva fatto lui il quadro con tanto di etica dietro e loro avevano un'amicizia di penna perché questo clown killer era davvero un killer non era un personaggio di un film è esistito davvero è stato davvero in carcere ha fatto purtroppo davvero tutto ciò che ha fatto e si scriveva amici di penna si scriveva lui gli scriveva al carcere quell'altro gli scriveva scusa e si vantava di questa loro amicizia di penna questa amicizia tutto a posto cioè questo non era tipo un mega campanello d'allarme e queste sono le persone che lavorano con i bambini attenzione lui si vantava di questa cosa e nessuno ha venuto in mente che forse non era una cosa molto normale per la popolarità per i soldi per un sacco di cose la gente farebbe cose a discapito di altri così senza proprio una coscienza e quindi niente nessuno ha pensato che forse questa cosa fosse oltre che inquietante anche pericolosa e tutto vabbè come niente questo qua continua a fare le sue feste a invitare questi ragazzini tra cui Drake così poi inizia ad avere proprio un attaccamento tra il quel demorboso questo Drake e inizia a a dire alla madre questa sera facciamo tardi trovava delle scuse per far tardi con questo ragazzetto mangiare fuori dopo le riprese e lo portava sempre più tardi a casa tant'è che insomma aveva studiato tutta questa cosa per poi chiamare la madre una sera e dire guarda è troppo tardi Drake resta a dormire a casa mia e te lo riporto domani mattina lui aveva 15 anni pensava che questo fosse un suo amico lui lo Drake lo vedeva con un amico non era ignaro di quello che gli sarebbe successo quel giorno lui stava dormendo sul divano come capitava altre volte era capitato nel pomeriggio così di magari schiacciare un pisolino quella e racconta che probabilmente era stato drogato perché si sveglia dopo un po' con questo collaboratore ecco che stava facendo cose non so come dirlo hai capito stava facendo delle cose su Drake cose da pet su di lui e lui in quelle situazioni lì uno pensa può pensare di fare qualsiasi cosa ma in realtà l'unica cosa che pensavo fosse più facile fare questo discorso invece mi sta risultando più difficile del previsto comunque resti tipo immobile a subire perché la paura lo shock e qualsiasi cosa che sprovi in quel momento ti blocca e non riesci ad agire quindi lui si è sentito così e ha detto che ha lasciato che lui finisse quello che stava facendo giustamente questo drake aveva il terrore di restare con lui e però lo aveva tipo convinto dicendo scusa non so cosa mi sia successo eccetera eccetera insomma lo aveva manipolato insomma lo ha tipo raggirato e questo povero ragazzino terrorizzato si è ritrovato appunto in questa situazione e poi in altre situazioni analoghe perché questo ha continuato a fare i suoi porci comodi su questa povera creatura che era appunto terrorizzata e non sapeva più conoscirne perché comunque il padre non si era più interessato la madre non gliene frega un ca perché era un idiota un merito idiota e quindi lui si è ritrovato nelle mani di questa persona poi Drake trova una ragazza si fidanza si fidanza con questa ragazza e inizia a frequentarla andare a casa sua la madre di questa ragazza che non era un idiota come la madre di Drake si accorge subito che c'è qualcosa che non va in Drake cioè ci mette pochissimo a accorgere e se inizia insomma a tastare il terreno per capire cosa succede poi Drake un giorno che è a casa con la madre la sua ragazza e riceve una telefonata da sto tizio che gli dice ti porto a Disneyland e lui ok insomma si vedeva palesemente che lui non ci voleva andare e la madre insomma lo capisce perché si vede che erano un po' più sveglia e gli fa no tu non ci vai a Disneyland con questo uomo di 40 anni perché giustamente dice ma chi è sto qua di 40 anni che ti sta dietro che ti vuole portare qua e là che ti viene a prendere cioè non è normale che un uomo di 40 anni porta un ragazzino di 15 anni che non è neanche non è suo parente insomma aveva capito e poi dopo questo uomo va a prenderlo a casa di questa ragazza e però Drake non esce perché la la madre della ragazza glielo impedisce e lui è contento cioè si sente finalmente al sicuro che sente che qualcuno lo sta aiutando a uscire da questa situazione ed è appunto si sente al sicuro in un posto sicuro con delle persone che lo vogliono proteggere finalmente visto che nessuno lo aveva aiutato che era in valia di sto di sto schifo di uomo che non si può neanche definire un uomo comunque cosa succede questo qua sclera inizia a chiamare Drake al telefono e Drake non risponde allora inizia a chiamare il telefono di casa di questa signora e nessuno risponde hanno detto nel documentario che è stata una situazione veramente agghiacciante perché è stato lì tipo mezz'ora a chiamare tant'è che questa signora si rompe le palle risponde e dice Drake non verrà via con te vado a Drake e dice dimmi la verità cosa è successo perché non è normale che questo qua ci fa le poste a casa si mette fuori a chiamarci mezz'ora al telefono ripetutamente perché cadeva la linea e richiamava cadeva la linea e richiamava ma così come un pazzo no non è normale allora lui non dice proprio degli app però ti racconta di situazioni inquietanti situazioni inquietanti situazioni inquietanti insomma questa donna qui era sveglia ha capito la situazione chiama la madre di Drake e gli dice Drake resta qua e domani lo porto in terapia non si sa cosa abbia risposto la madre però si pensa appunto che abbia citato perché il giorno dopo Drake va in terapia e pian piano inizia ad aprirsi con questa terapeuta insomma da lì escono tutte le cose e dopo alla fine questo è stato incriminato però della Disney quindi sicuramente secondo me io mi sento che tra un po' uscirà qualche documentario dove quelli della Disney raccontano perché questa cosa che ci sono rimasta malissimo ma come ho fatto cioè io l'avrei chiuso in carcere o peggio no lui è stato poco in carcere poi rilasciato poi riassunto assunto dalla Disney quello invece che sembrava il ragazzo della porta accanto lui era stato anche lui è stato in prigione poi dopo è stato rilasciato ha rifatto cose brutte e l'hanno rimesso in carcere cioè perché liberarli quelli se sai che sono persone del genere perché liberarle ecco adesso io non mi esprimo più perché se dico qualsiasi cosa dopo verrà rigirata contro di me e passerò per la cattiva però penso che tu abbia capito il mio punto di vista cioè io non li farei proprio o non li farei più uscire dal carcere o anche di peggio ma questi sono i i motivi per il quale spesso io sono sfiduciosa nei discorsi che fanno che parlano del karma che tutto ti torna indietro cioè quello lì è stato riassunto come se nulla fosse dalla Disney si sarà fatta una fracca di soldi e avrà fatto i suoi borsi comodi con altri bambini cioè ma ma dov'è il karma qua cioè se anche dopo lui magari morirà di una morte orribile comunque tutte le vite che ha rovinato non non andranno mai al non sarà mai una giustizia non sarà mai paragonabile alle vite magari se anche muori di una morte orribile non sarà mai paragonabile a tutte le vite che ha rovinato però però ci sono tanti però tu come la pensi spero spero di non averti generato questa rabbia ma di averti solo informata tra l'altro io queste serie le vedevo e sono rimasto scioccata perché al di là dei video le scenette che potevano sembrare innocue ma poi dopo riflettendoci meglio da adulta effettivamente lui faceva contenuti di un certo livello per un certo tipo di individui ma anche tutte queste manipolazioni e questi questi abu proprio io non me lo aspettavo cioè sono rimasta che poi tra l'altro oltre a provocare traumi che ti porterei dietro per sempre perché puoi fare tutta la terapia che vuoi ma quel genere di trauma di ti devasta l'anima è un trauma che una cicatrice che ti resterà per sempre dentro perché è dentro la tua anima poi generavano anche un altro tipo di trauma di cose perché tipo Dan chiamava i genitori e diceva tua figlia sta ingrassando troppo metti la dieta e quindi avevo sentito di Sam che era quella che di iCarly faceva l'amica di Carly e su Sam e Cat e Sam Sam e Cat è quello con Ariana Grande che fa Cat faceva fare delle scene dove Sam si appuffava di questi dolcetti su Sam e Cat erano dei disturbi alimentari perché dicevano che era ingrassata e quindi lei doveva stare a dieta però gli facevano fare queste scene c'è un casino fuori anche lì insomma hanno come potevano rovinargli la vita loro ci mettevano tutto l'impegno insomma gli hanno messo tutto l'impegno per mettergli traumi e robe del genere fammi sapere se hai altri argomenti di cui vuoi trattare spero che questo non sia stato troppo pesante però ci devo un sacco a mettere alla luce e farti conoscere questa storia se hai altri argomenti di cui vuoi che parlo io mi informo e poi te li racconto te li racconto come ho fatto qui e magari anche più leggeri oppure beh true crime anche no perché tanto ci sono altre persone che ne trattano però se vuoi true crime fammelo sapere vedrò di trovare argomenti un po' più leggeri per la prossima settimana concludo qui il video e lasciami dei commenti a riguardo sapere questa storia non la conoscevi sei rimasto scioccato te l'aspettavi eccetera eccetera ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti